Ripartiamo dalla Voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Vite Parallele, un progetto di Cascina Macondo, racconti e testimonianze di chi ha barcato la soglia del carcere, con il contributo dell'UBI, in partenariato con il centro Okuzenko. Media Partners, Corriere di Chieri, Fita, Italia che cambia, Narrabilando, Blogspot, Piemonte Mese. Se sei una radio o una testata giornalistica, puoi ancora aderire al progetto per diffondere le testimonianze pervenute. Testimonianza di Anna G., moglie di un detenuto. Lettera di una moglie Legge Nagi Tartamella «Ciao, amore mio. Che disperazione venire a trovarti e saperti lì dentro. L'avevi descritto bene, il carcere. Ho fatto due ore di treno. Poi mezz'ora di pullman e sono scesa sulla statale deserta, accanto alla tangenziale dove passano i tir. Che squallore. Vedere scritto il nome della fermata alla pensilina dell'autobus. Carceri. È un nome duro da sopportare e da mandare giù. Quello che mi ha colpita di più è stato l'odore del carcere rispetto all'aria gelida e pulita di fuori. Un odore forte di metallo e di umanità compressa. Anche se ieri era un giorno di visita in cui non c'era quasi nessuno. È stata dura essere perquisita e la poliziotta non era neanche poi così gentile. È una grande tristezza essere qui. Le ho mormorato mentre mi metteva le mani addosso. Poi mi ha anche fatto aprire la bocca e ha indagato sopra e sotto la lingua. Ho dei denti brutti. Lo so, ho detto. Non è colpa mia. E mi vergognavo senza motivo di vergognarmi. Solo per il fatto di essere lì. Poi mi hanno dato un foglio con un numero. Che era il numero del tavolo al quale avremmo potuto parlare. Era un grande otto disegnato. E ho pensato tra me e me il numero dell'infinito. Come è infinito il mio desiderio di vederlo e la mia sete di lui. Poi abbiamo attraversato cortili e porte blindate con i vetri antiproiettile. E finalmente hanno aperto la porta di ferro pesante con una chiave che faceva rumore. E ti ho visto, di là dal vetro, il tuo viso da ragazzino. Il tuo sorriso. Per me. Dimmelo, forse tu lo sai? Che senso ha il carcere? Privare una persona della libertà e basta. Non fare niente per lei. Non coltivarla come una pianta cresciuta storta cui si mette un'asticella per raddrizzarla. Siete chiusi lì dentro, stipati come bestiame cui non si dà una seconda o una terza o una quarta possibilità. Siete esseri umani, cazzo, esseri umani. Una delle cose che mi ha lasciata con il fiato sospeso è stata la somiglianza dei detenuti con i secondini. Man mano che si aprono le porte e si attraversano i cortili, il filo che vi unisce e nello stesso tempo vi separa dai vostri carcerieri si assottiglia sempre più. Che tristezza. Anche loro erano uomini ma ora forse non lo sono più. Durante il colloquio ti ho chiesto se nel carcere ci sono dei corsi di studio per i detenuti. Mi hai detto che no a parte forse un corso di computer che tu non te la sei sentita di fare. E poi hai aggiunto i corsi sono per quelli che hanno tanti anni da scontare. E che differenza fa? Perché ti hanno dato solo un anno tu dovresti uscire senza essere migliore? Ma quale logica perversa è questa? Non so capacitarmene. Lo sanno tutti che la situazione dei detenuti in questo paese è drammatica ma ieri, ieri vederti così pallido come davvero un viso che non vede mai la luce. Abbiamo parlato tanto. Ogni tanto appoggiavo il viso sulle tue mani le tue mani piccole da bambino. Mani che non sono mai cresciute. Le tue mani che tanti direbbero sporche ma che per me sono le tue. Non tenerle chiuse. Schiudile al sole e lascia che il cielo le purifichi di luce e di consapevolezza. Le tue mani. Ti guardavo. Ti indagavo gli occhi come per entrarci dentro. Le due ore di colloquio sono passate in fretta sono volate via. Poi mi sono ritrovata al sole rancido dell'inverno sulla statale. È stato bellissimo vederti. Ma quando ti ho lasciato lo sapevo. Ti stavo lasciando sulla porta dell'inferno e la pena più grande è non dividere il suo fuoco tremendo con te. A presto. Avete ascoltato Chi ha avvercato la soglia Testimonianza di Anna G. A letto Nagi Tartamella Per informazioni info chiocciolacascinamacondo.com Grazie a tutti.